da Porto che ritorna in campo Lusetti contro Pezzali esce Imran sulla linea di tiro dei tre punti Imran Suljanovic che poi pesca Abreu che si gira doppia stoppata probabilmente quella decisiva è quella di Demet che prova ad andare fino in fondo viene disturbato da D'Amelio e poi c'è il canestro con fallo di Abreu che appena è entrato fa subito una gran cosa segue il compagno lui che quest'anno sta viaggiando a otto punti di media in under 19 eccellenza e quasi 17 in serie C con ospitaletto Canestro gli sta davanti palla dentro per il numero 28 Abreu che gioca di forza sostanzialmente l'esplica ben delineata sei punti a referto per Reggio nel secondo quarto dopo i 24 dei primi 10 minuti ma ne mette altri due significativo anche in virtù comunque dell'ultima serie di tribu 10-0 aperto per Treviso lo chiude Abreu con un appo cento da due punti e due su tre da tre Omer Suglianovic qui sbaglia proprio la misura per l'appoggio a Canestro poi subisce un colpo tre volte da due e invece una sola da tre punti Demet lontano dal Canestro cerca di avvicinarsi poi chiude il palleggio tira sopra la testa di Marchello il rimbalzo è ancora una volta di Abreu grandissimo lavoro sotto le plance per Abreu si ritorna a giocare con i soliti 14 secondi va fino in fondo a Tamama viene l'assess di Sant'Angelo ora Abreu a giocare contro lo stesso Keita cerca il post basso si gira verso Canestro Keita non fa adesso perde però il pallone Pistoia adesso in contropiede può andare Demet a realizzare anzi a fare un assist per Abreu che sbaglia il primo tiro segna il secondo la tripla di Giacomo Sant'Angelo d'altra parte passaggio lungo a cercare Abreu sotto Canestro che si muove senza neanche palleggiare grandissimo movimento per Demet Demet spara un tiro da tre punti un po' senza senso c'è l'errore ma rimbalza è ancora di Abreu che là sotto sta facendo il bello c'è l'errore ora gestisce la transizione Molinini palla sotto per Abreu che ancora ha sotto il resto tiro che non va Suljanovic dall'altra parte Canestro e fallo per favore per rientrarci ora bello il passaggio sotto per Abreu invenzione di Suljanovic